La partita è subito in salita perché abbiamo preso un gol un po' sfortunoso, però come ha detto il mister in effetti al primo tempo siamo un pochino mancati. Siamo stati bravi a ribaltarla stavolta e ovviamente contenti per l'apprezzazione personale ma soprattutto per i tre punti della squadra perché ce li meritavamo. Il primo se avete visto non è anche il risultato perché non ero assolutamente soddisfatto di quello che stavano facendo in campo, quindi sicuramente il secondo. Ero comunque appena fuori dall'aria e ho deciso di calciare in porto il secondo palo e sono stato fortunato, non nego che è andato sotto il set, però il mio intento era di calciare un secondo palo forte. Io faccio quello che mi dice il mister, ormai veramente con gli anni ricopro diversi ruoli, il secondo tempo il mister mi ha detto di stare un po' più largo perché voleva mettere Alessandro per dare più peso all'attacco, evidentemente è andata bene. Io sono contento, io ripeto, metto a disposizione del mister e faccio quello che mi dice lui. Quest'anno tutti i gol che faccio lo voglio dedicare a tutte le persone che pensano che io, siccome durante il mercato ho sofferto tanto, che pensano che io non abbia più niente da dare al calcio. Perché hai sofferto tanto? Perché sono cose mie personali, però la voglio fare la dedica a queste persone che pensano che io sia finita. Come ho sempre detto quando sono tornato qua, che ci tengo a far bene con questa maglia. Tutto è iniziato qui tanti anni fa per me e sono tornato e sono veramente contento. Oggi è il mio primo gol con questa maglia, diciamo da professionista, perché quando facevo il settore giovanile contavano e non contavano. Adesso per me è importante fare bene e sono contento perché ho fatto il 3-1 e mi sono fatto trovare pronto quando mi ha chiamato il mister. Abbiamo portato a casa tre punti importanti per noi. Stavamo giocando molto bene e devo dare ai miei compagni il mio supporto, la mia voglia che metto quando entro in campo. Perciò ci sono messa tutta dal lavoro sporco, poi è venuto anche il gol perché quando lavori tanto forse vieni premiato. Perciò sono contento di aver dato la mia mano per vincere la partita, sono contento per questo. Penso che nessuno vuole stare in panchina, però io sono arrivato qua e poi avevo avuto un problemino all'adduttore. Mi allenavo da solo per una settimana e poi comunque sono scelte che fa il mister. Io mi voglio fare sempre trovare pronto e ogni volta che mi chiamano in causa voglio fare del mio meglio, sia per me che per la squadra, perché sono veramente contento di far parte di questo gruppo, che sia fuori dal campo che dentro, siamo affiatati tantissimo, perciò sono contento di aver fatto questa scelta. Ho firmato a Pescara e certo per un ragazzo firmare un club di Serie A è il sogno da bambino, però sono stato contento che mi hanno girato in prestito qua da Tezzo perché per me prima o poi volevo tornare qui e voglio far bene qua da Tezzo. La mia fidanzata lo dedico perché lei veramente sa tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare qui e mi sta sempre vicino, perciò questo qua è il primo e lo dedico a lei, veramente se lo merita anche lei, mi sta sempre vicino.